Spaghetti, pollo e salatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a... Siamo a Itaca e abbiamo trovato il Proccio per Penelope. No, 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 no Ehi, Prozzo, che genere di musica stai ascoltando? Non sento, stai ascoltando la musica. Ehi, gli avete fatto le cuffie. Ehi, Prozzo, che musica stai ascoltando? Non sento, non ho le cuffie. Mola, ho fatto le pazzie per te. Ricorda... Siamo a casa Telenove per vedere come va la vita quotidiana dei due. Ehi, Penelope, perché tesi sempre la stella? Perché tu sei sempre col gasto. Ah, è perché indossi quel cappello. Ma veramente è il tuo regalo di notte? Veramente è quello il regalo di George. Sei proprio un proccio. No! Noi, Dunei, coi volti scuri, scuri, proiettiamo ombre lunghe sui muri. Noi, Dunei. Guarda che luna, guarda che mare, da quest'anno... Penelope, perché hai divorziato con Prozzo? Perché era proprio un proccio. Prozzo, perché hai lasciato Penelope? Perché teseva sempre la tela. E non le piaceva il mio gatto. Penelope, cosa ti ha lasciato l'esperienza col proccio? Un cappello in testa. Prozzo, cosa ti ha lasciato l'esperienza con Penelope? Mi ha tolto il cappello di George. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto.